Coach Damiani, prima vittoria ufficiale, può già voler dire qualcosa oppure come si dice in questi frangenti qua è ancora veramente troppo troppo presto? No è troppo presto ovviamente, perché siamo arrivati a questa prima partita ufficiale senza nessun tipo di amichevole sulle spalle il che infatti ha delineato qualcosa ancora da mettere a posto, dobbiamo ancora trovare un pochino la quadra, la squadra deve per bene oliarsi anche perché l'altro giorno sabato in campo ci sono andate 7 persone però alcune delle quali non avevano mai giocato insieme quindi bisogna ancora cercare di trovare l'amalgama giusta insomma. Sono già 4-5 anni e comunque che la spina dorsale della squadra è sempre la medesima quindi questo però non significa che le 6-7 che hanno giocato sabato debbano essere per forza di cose sempre le solite ad andare in campo dall'inizio il campionato è lungo, la rosa è ampia e quindi ci sarà ugualmente spazio per tutte quante e poi abbiamo sempre da recuperare la Lorenza Magni che purtroppo è ancora in box e dovrebbe rientrare più o meno a metà fino a novembre quindi le aspettiamo tutte quante per metterle in campo. Per concludere cosa ti senti dire mentre sta per arrivare l'Admo Lavagna sempre a Palamariotti il prossimo weekend? Cosa mi sento di dire? Mi sento di dire che purtroppo il nostro capitano la Silvia Battistini difficilmente sarà impiegabile perché ha un piccolo risentimento all'addome quindi sia io che Luca cercheremo di pensare bene a cosa fare ma probabilmente riposerà.